Come è andata? Eccoli, come è andata? Come è andata? Tutta a posto è andata? Bene, come è andata? Scusi, scusi, ma di cosa avete parlato? Beh, siamo un gruppo di persone, abbiamo parlato del nostro lavoro, di quello che c'è da fare. Ciao, scusa, posso? Di cosa avete parlato? Ciao. Ciao, pronto? Ciao, scusa. Di cosa avete parlato? Ma di cosa avete parlato? Cioè, al di là che avete mangiato tutti insieme, avete condiviso... Sì, è stata una bella occasione per rivederci tutti insieme, uniti, compatti. E per punti politici focati, su che cosa vi siete soffermati? Ti ripeto, abbiamo parlato di unione, unione del gruppo, ciò che stanno cercando di fare gli altri, quindi disgregarci. Noi siamo uniti, compatti e abbiamo uno stesso obiettivo comune. L'appoggio al PD. Ma che appoggio al PD? I dissidenti. Ma ci sono parole? Guarda, guarda, fai i suoi post e il blog non c'entra niente con il Movimento 5 Stelle, il blog esprime delle opinioni, che sono sempre le stesse. Il nostro movimento è fatto dal programma, il programma è la nostra politica. Noi cercheremo di tenere testa questo stress che abbiamo su queste decisioni, ma sono discussioni complesse. Per fare queste discussioni complesse ci dovete dare il tempo. Ragazzi, noi stiamo nuovi, sono 15 giorni che stiamo lavorando all'interno del Parlamento, quindi è chiaro che tante cose non funzionano, bisogna farle funzionare e metterle a punto, è quello che stiamo facendo. Grazie. Ok? Oggi assolutamente... Chi ha preso la parola oggi? Chi ha parlato con Beppe Grillo, guardandolo negli occhi? Molta gente. Per dirgli cosa, Beppe? Ma molto tranquillo. E lui cosa vi ha detto? Stai andando bene, stai andando male? Ti stanno andando bene, stanno distruggendo bene, stanno distruggendo bene.